Il mondo sta andando avanti, sta proseguendo nella sua evoluzione in modo sostanziale, per cui credo che se cambiano le tecnologie debba essere diverso anche l'approccio con il quale si affrontano le problematiche. È chiaro che la nuova generazione del nucleare è qualcosa che non è assolutamente paragonabile a quella vecchia, si riducono in maniera sostanziale i rischi e credo che sia sicuramente una prospettiva da prendere in considerazione.